Ciao e bentornate nello spavillante canale Anaysa Superstar Spavillante come i miei orecchini No, non sono originali perché se fossero originali con pietre originali e oro originale non sarei qui, molto probabilmente Oggi parliamo di capelli e ti sto per sganciare delle bombe Tra l'altro prodotti trasversali che vanno bene sia per lui che per lei E sia per lei che per lui Ma io sono la lei e quindi il mio punto di vista è molto femminile E quindi, vabbè, senti, prodotti per capelli Spoiler di una bomba che sto per lanciare Hai detto dupe low cost di Olaplex? Sì Ma non te ne parlo ora Devo creare hype Prima o poi te ne parlerò in questo video di un prodotto dupe low cost di Olaplex numero 3 L'ho trovato e funziona In questo video prodotti low cost prodotti che puoi trovare al supermercato che puoi trovare presso i negozi che vendono detersivi che puoi trovare online e che puoi trovare Che puoi trovare Tra low cost e non low cost Ma in questo video parlo solo ed esclusivamente di prodotti che mi piacciono Promossi Superstar Approved Wow Niente che mi faccia fare la famosa smorfietta Comincio con lui che è un siero Pantene Forti e lunghi Biotina più bambù più caffeina Un prodotto come questo serve per fortificare i capelli Lui li fortifica? Sì Approvatissimo Consiglio Quando si utilizza un siero come questo Che serve in questo caso a fortificare i capelli In altri casi a stimolare l'allungamento dei capelli Ricordiamoci sempre la regola del 15 Cosa è questa regola del 15? 15 gocce In questo caso 15 spompettate Se hai un prodotto col contagocce 15 gocce Te lo spiego In questo caso con questo prodotto Capelli bagnati Con altri prodotti anche i capelli asciutti perché non ingrassano la cute Ma lui vuole i capelli bagnati Regola del 15 prevede che Riga al centro 1, 2, 3 Laterale 1, 2, 3 Laterale dall'altra parte 1, 2, 3 Mi giro 1, 2, 3 1, 2, 3 Mi dicono dalla regia che 3 per 5 faccia 15 Una volta fatta questa cosa per 15 volte su tutta la testa Si massaggia Bene, 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 bene E asciughiamo i capelli Funziona Io l'ho visto sui miei capelli Tra l'altro questo prodotto poi in asciugatura rende i capelli fantastici Ma anche questo dupe di Olaplex numero 3 l'ho usato ieri sera Chissà Io l'ho trovato presso un negozio di detersivi Si trova con molta facilità Non l'ho visto al supermercato Però un negozio di detersivi si trova Prodotto di fascia medio alta come prezzo Ma che funziona e che dà molta soddisfazione E in questo caso mi sbilancio perché l'ho utilizzato una volta soltanto E mi è piaciuta da matti L'ho utilizzato una volta soltanto perché ho comprato una monodose In realtà ce n'è ancora nella bustina Farò un'altra applicazione questo weekend Quando posso provare i prodotti E quindi comprare le confezioni monodosi o i travel size Anche se obiettivamente il rapporto quantità-prezzo non è per niente conveniente Mi capita di farlo Perché in questo modo o mi evito delle sole pazzesche Cosa che è capitato Oppure mi innamoro talmente tanto del prodotto Che poi io vado a comprare full size In questo caso andrò a comprare full size Questo è un prodotto del Coke Press Avocado Che ho comprato in Rinascente Quando stiamo parlando di capelli E leggo la parola avocado Ma anche bambù Ma soprattutto avocado ci piace Questa cosa la dico da anni E funziona L'avocado rende i capelli fantastici In questo caso c'è anche la banana La banana rende i capelli meravigliosi Banana e avocado insieme da svenimento Praticamente No no comunque a parte lo scherzo Wow Allora la profumazione per i miei gusti Un po' troppo dolciastra Però è fruttata perché si sente moltissimo la banana Ho visto che in Rinascente c'è il full size Andrò a prendere il full size Perché mi piace da matti Quindi se hai i capelli Che hanno bisogno di quel leggerissimo booster Di idratazione in più Rispetto al semplice e normale balsamo Garantito Garantisco per lui Guarda Lo conosco Ci conosciamo non da tanto tempo Però mi ha fatto una bella impressione Prodotto che puoi trovare online Che ho utilizzato ad ogni shampoo Nelle ultime due settimane Tranne ieri perché volevo vedere Che tipo di funzione avesse Volevo vedere il risultato finale Senza aggiungere nient'altro Sto parlando di questo famosissimo prodotto di Freshly L'ho visto ovunque ragazzi E effettivamente c'è un motivo per cui si vede un po' ovunque online Perché quando trovi la dose giusta per i tuoi capelli Va alla grande Faccio questa specifica perché io la prima volta ammetto di aver sbagliato Cioè l'ho vaporizzato sui capelli A uso balsamo senza risciacquo E ho sbagliato Era troppo In realtà per la mia lunghezza 4-5 spruzzate sono molto più che sufficienti A cosa serve? Intanto dà molta lucentezza E questa è una di quelle cose immediate Che vedi nei prodotti per capelli Cioè i prodotti per capelli Nella stragrande maggioranza dei casi Danno l'effetto che promettono subito Quando non me lo danno subito Quell'effetto io dubito un po' di aver sbagliato io le dosi Cambio il tiro ed effettivamente poi confermo Smentisco l'effetto che è mancato In questo caso 4-5 spruzzate Capelli brillantissimi e si vedono immediatamente Questo prodotto Freshly che io utilizzo sui capelli bagnati subito dopo aver fatto lo shampoo Prima di asciugarli perché protegge anche dal calore Aiuta la districabilità Con i capelli lunghi la districabilità è importante perché io non nascondo che ogni tanto mi capita di avere qualche piccolo intoppo Invece con veramente un gesto abbastanza semplice come quello di questo prodotto va liscio come l'olio Ho notato che agevola l'asciugatura Questa è una cosa che di questo prodotto mi è piaciuta sin da subito Ho detto più facile da asciugare effettivamente Aggiungo non solo con spazzolo e phon ma anche con strumenti ad aria per fare lo styling Per esempio il Dyson Airwrap o altri tipi di spazzola getto d'aria calda Agevola non male assolutamente Profumazione fruttata molto gradevole Non credo nei prodotti miracolosi credo nelle buone formulazioni Di Freshly sto testando un altro prodotto Aspetta che lo vado a prendere Prima o poi diventerò barbiera per onzo Aspetta Allora questo qui è il Growth and Density Treatment Lo sto utilizzando da troppo poco tempo quindi non mi sbilancio te lo volevo semplicemente segnalare Te lo volevo segnalare perché questo prodotto che come vedi anche qui è un siero in boccetta Questa volta con il contagocce Stessa regola del 15 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 per 5, 15 Sempre cioè non cambia mai il risultato Questo a differenza del prodotto che ti ho mostrato proprio all'inizio del video Va utilizzato su cute asciutta quindi no capelli bagnati Lo utilizzo la sera Lo utilizzo da troppo poco tempo per poter dire sì no Però te lo volevo segnalare magari qualcuno può interessare È composto al 99,9% di ingredienti di origine naturale Mi piace la formulazione lo sto suggerendo per questo Questo guarda metto un asterisco a quello che ho detto all'inizio del video Perché lo utilizzo da troppo poco tempo per dire sì wow Intanto lo segnalo Perché è interessante ha una formulazione veramente interessante Veniamo a noi Al low cost dell'Holaplex numero 3 Allora brand che ogni tanto mi stupisce ogni tanto mi incuriosisce altre volte proprio No sono sincera Brand che però in questo caso non solo mi stupisce mi fa rimanere a bocca aperta Sto parlando di Revolution Bond Restore Treatment numero 3 Qui c'è scritto Plex È un prodotto vegano e si comporta esattamente come l'Holaplex numero 3 Vorrei fare un piccolo paragone Intanto partiamo dal prezzo Lui ne costa 11 Ora io in linea generale su moltissime cose penso che c'è un motivo per cui una cosa costa 10-11 euro E un'altra cosa ne costa 25-30 C'è sempre un motivo La formulazione sicuramente è diversa La produzione è diversa Il pack è diverso La distribuzione è diversa Sono tanti fattori che determinano un prezzo Non è soltanto un magna magna Sono tutti dei maledetti approfittatori Assolutamente no Io questo non solo non lo penso Quando lo sento dire faccio sempre una mezza smorfietta Ciò nonostante in questo caso benché io a onor del vero preferisca l'Holaplex numero 3 Ho trovato un degno avversario Degno avversario che costa 10-11 euro nelle due L'ho trovato all'UPIM Perché all'UPIM? E qui ti apro una parentesi Vai a guardare le storie che pubblicherò oggi venerdì No aspetta un attimo che devo guardare il calendario Perché io i video li registro sempre prima di andare online Quindi allora venerdì ne avremo 22 Venerdì 22 pubblicherò delle storie che ho registrato all'UPIM Vicino al box che frequento c'è un UPIM Che ha un reparto beauty bellissimo, interessantissimo Dove c'è l'intera linea Revolution Plex La consistenza è lattiginosa Esattamente come l'Holaplex numero 3 Aspetta vediamo se riesco a fare vedere una cosa Solo che ok si vede Ok si vede È bianco Però non è un prodotto ricco e pastoso Cioè è bianco Ma una volta che lo metti sulle mani E lo massaggi sulle mani Prima di massaggiarlo per la lunghezza Diventa proprio lattiginoso Profumazione È gradevole Sai di cosa sa? Di prodotti per parrucchieri Io non associo questo odore ai prodotti per parrucchieri Non mi chiedere perché Puoi tenerlo in posa dai 15 ai 30 minuti Che è quello che ho fatto io Ieri sera e questo è il risultato Sono contentissima Oppure tutta quanta la notte Esattamente come l'Holaplex numero 3 Tu lo puoi tenere 30 minuti O lo puoi tenere tutta quanta la giornata È uguale Le promesse e le premesse Sono le stesse Solo che questo ha una fascia di prezzo Decisamente diversa Ovviamente anche lui È un trattamento pre-shampoo E anche in questo caso Il consiglio da parte dell'azienda È di utilizzarlo una o due volte A settimana Per avere dei risultati Realmente tangibili Voglio dire una cosa su questo prodotto Nel momento in cui poi va rimosso Con lo shampoo Perché bisogna lavare i capelli Al tatto i capelli sono fondenti Morbidi Cioè è bellissimo toccare questi capelli E costa 10-11 euro Assolutamente da provare Assolutamente Sulla luminosità non ci scommetterei casa Ecco Però sulla consistenza del capello E sulla morbidezza del capello Quello sì Con me sta funzionando E ricorda Li vedi tutti scuri Perché sono andata al parrucchiere di recente In realtà i capelli sono decolorati E i miei capelli sono ormai rovinati A causa delle decolorazioni Li ho decolorati per tanti anni Ho detto basta Adesso ritorno piano piano al mio colore Mano a mano li taglio Voglio tornare definitivamente al mio colore E non stressarli ancora per un po' di tempo Ottimi prodotti Ti voglio mostrare dei low cost Costano poco e funzionano Il primo me l'avete consigliato in massa Una cosa incredibile su Direct Proprio voi Ed è lui Elvive Hydra Yaluronic Shampoo 72 ore di idratazione profonda Acido yaluronico Capelli idratati Morbidi e leggeri Per un effetto rimpolpante Capelli disidratati Confermo Come vedi Io utilizzo poco shampoo Perché in realtà Non mi riducco mai Con i capelli particolarmente sporchi Allenandomi Come al solito Non lo voglio ripetere Perché poi divento rogiosa Ma con quell'annocina Di shampoo Già la prima volta Ho detto Wow Ho comprato anche il balsamo Sì Carino Ma non te lo sto mostrando Perché se devo consigliare proprio Uno tra i due Consiglio Lui Provare per credere Idrata Veramente dà questa sensazione Di capello rimpolpato È più una visione ottica Ovviamente L'idratazione 72 ore Non lo so Non ci arrivo a 72 ore Senza fare lo shampoo Non lo so Perché poi in sudo Li devo lavare Quindi non lo so Magari qualcuno ci arriva E ce lo può anche dire Però Obiettivamente È un ottimo Shampoo Provalo Scusami Della stessa linea Per chi lava i capelli Molto molto spesso Consiglio A cuor leggero Chi mi segue Sa che da anni Lo consiglio Stessa linea Però bottiglia verde Trasparente È uno shampoo a uso quotidiano Lo shampoo e il bib Bottiglia verde A uso quotidiano È leggero Lava È un lavatesto Sostanzialmente Non irrita È fantastico È uno shampoo Che consiglio molto a cuor leggero Quindi stessa bottiglia A colore verde Ultimi due prodotti Che ho comprato sempre A Lupin Perché Lupin Mi dà tante gioie E tante soddisfazioni Sempre Lupin Mi vicino al mio box Allora Quelle Lupin Di Via Leonardo da Vinci Se non sbaglio Sì Quelle di Leonardo da Vinci Comunque a Lupin Di Via Leonardo da Vinci A Palermo C'è un reparto beauty Che dà tanta soddisfazione Ho preso l'oro due Hai per caso detto Avocado? Costano poco Funzionano Questi io li chiamo I prodotti Shue Shue Quei prodotti Che io ogni tanto compro Mi tolgo lo sfizio Perché vengo attratta Anche un po' Dal pack Deve essere sincera Io lo guardo Io sono una che guarda Il pack Sì Per esempio Mi piace da matti Il pack di questo qua Sono molto attratta Dal pack di questo Se volete facciamo un video Proprio sul pack Sulle fasce di età Tratte da un colore Piuttosto che Che un altro Un altro ancora Comunque Profumazione gradevole Idratano La maschera Soltanto alle punte Non mi avventura Alle lunghezze Perché l'avocado Idrata tanto E non salgo troppo Verso la cute Perché ho paura Di ingrassare anche la cute E poi insomma L'effetto è un po' Controproducente Però lo shampoo Riesce a idratare Alla perfezione L'intera lunghezza E soprattutto L'ho trovato Molto delicato Per quanto riguarda la cute Della stessa linea Allupim Ci sono anche dei prodotti Con estratto di anguria Prima o poi Li compriamo Però ti ripeto Allupim Che è diventata un po' La mia nuova fissa Ci sono un sacco di cose Carine e interessanti Ma anche col bel pack E devo dire Che adesso Dei punti di grande distribuzione Vedi anche il rinascente Creano questi angoli beauty Con tanti prodotti Visti sul web La trovo una strategia Geniale Se io avessi un negozio Lo farei anche Cioè io vorrei diventare Rivenditori di alcuni prodotti Visti e rivisti Sul web È una cosa molto intelligente Secondo me Dai che qualche bombetta L'ho sganciata in questo video Dai Dai che l'ho sganciata Qualche bombetta Più di una Decisamente Più di una Ho fatto una strage In questo video Una cosa veramente Incredibile Mamma mia Spero che il mio video Ti sia piaciuto Se hai dei suggerimenti Scrivi come vedi Io ascolto E poi Quando vado smaltendo E acquistano i prodotti Ho degli appunti Sulle cose che mi avete suggerito Quindi Se ti va Utilizza la sezione commenti Iscriviti al canale Se ti va Attiva la campanella Che è molto molto utile Soprattutto per non perdersi i video Perché certe volte Ah ma l'hai messo online Quel video Quel video è online Tipo da due mesi Sì Ce l'ho messo online Quel video Spero che il mio video Ti sia piaciuto Ci vediamo La settimana prossima Con due nuovi Bei contenuti Ciao